Ciao a tutti, questa mattina vi faremo vedere un antipasto per Natale, sono dei fiorellini con, potete mettere sia salame che prosciutto e qualche fettina di sbizzera, e allora prendiamo un quadrato, tagliamo gli angoli, prendiamo una fetta di salame, chiudiamo gli angoli di pasta sfoglia, fino al centro, ecco qua, e alla fine spennelliamo con l'uovo, torno d'uovo, le fatte piccoline, più grandi, ora inforniamo a forno caldo 200 gradi, fino a doratura, ed ecco a voi l'antipasto per Natale, è un'idea carinuccia, spero vi sia piaciuta, provatela alla prossima ricetta, ciao a tutti, un bacione!